Questo è lo Stato, e lo avrete sicuramente già visto nei nostri precedenti servizi, relativo alla scalinata del sottopasso. È una scalinata nella quale sono presenti erbacce, rifiuti, insomma di tutto e di più. Ovviamente il sottopasso è interdetto al traffico pedonale, ma proprio per evitare ulteriori episodi di vandalismo, nelle scorse settimane, in particolare il 23 febbraio, la Polizia Municipale ha scritto al Comune chiedendo di chiudere letteralmente l'ingresso a questo sottopasso. Questi incendi causati proprio al sottopasso di Borgo Livi hanno danneggiato perfino la struttura, perché come vedete per esempio questa trave si è sganciata dal tetto di riferimento, come vedete è abbastanza danneggiata. Qui proprio i segni delle fiamme sono veramente evidenti, e proprio per evitare ulteriori episodi, si diceva nella lettera, praticamente erano state bruciate sei macchine nel giro di un mese, era stato chiesto diciamo di interdire il passaggio, quindi di chiudere, di porre una rete proprio all'ingresso del sottopasso, che sopra il quale passa via la regione siciliana, quindi c'è anche un problema di sicurezza. Purtroppo questo ancora non è stato fatto, ci sono anche siringhe, lo vogliamo fare vedere, e quindi qui è diventato chiaramente anche il ritrovo per tossicodipendenti la sera, e insomma anche per questa tipologia di fenomeni sarebbe necessario, viste le condizioni del sottopasso, che è chiaramente intransitabile, chiuderlo come chiesto dalla polizia municipale. Ci ritroviamo di nuovo nei pressi di Borgulivia, nel sottopassaggio, come potete vedere il sottopassaggio continua a essere aperto, anche se comunque è impraticabile per via appunto delle erbacce e quant'altro, non ci sono attualmente auto incendiate, ma lo sono state in passato, e apprendo da fonti di stampa che il 23 di febbraio il capo della polizia municipale aveva effettuato una relazione proprio su questo sottopassaggio, chiedendone la chiusura. Siamo al 14 di marzo e continua a non essere chiuso.